A Barletta Dino Bitetto verso l'Esonero, il tecnico biancorosso arrivato poco più di un mese fa dopo l'esperienza in panchina di Ciro Ginestra, ha conquistato soltanto un punto in cinque partite, pareggio in casa del Santa Maria Cilento ad intervallare le sconfitte contro Angri, Paganese e Gallipo Lienardo, soltanto un gol segnato nell'1-2 a favore dei Grigiorossi nell'ultimo match del 2023 martedì pomeriggio. Un incontro al Puttilli tra il direttore sportivo Marcello Pitino, il direttore generale Beppe Camicia e l'allenatore che ha lasciato la conduzione dell'allenamento al preparatore atletico Sepe e al tecnico in seconda a Roma in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club sulla posizione di Stefano Di Quonzo. Dalla riunione sarebbe emersa la volontà di cambiare rotta con Bitetto esonerato e nuovi scenari all'orizzonte in una settimana delicata prima della trasferta di Bitonto. Sul tavolo ci sarebbero le opzioni di Salvatore Ciullo e Ciro Ginestra con il secondo che potrebbe tornare in sella dopo le dimissioni di dicembre. Valutati anche altri due profili che però al momento sarebbero in secondo piano rispetto ai primi due, molto dipenderà anche dagli sviluppi sul futuro societario del Barletta entro la giornata di mercoledì. Il patron Mario Di Miccoli fornirà a Francesco Di Vittorio un prospetto finanziario con l'analisi di spesa fino a fine campionato. Non si escludono passaggi di consegne così come ulteriori dietrofronti nella trattativa.